Soprannome. Il fantasma dell'autostrada. Numero vittime. Sei accertate. Modus operandi. Stupro, strangolamento, accoltellamento. Il fantasma dell'autostrada è stato uno spietato serial killer non identificato, attivo tra il 1971 e il 1972 a Washington DC, Stati Uniti, che si aggirava quando il sole era ormai calato, per le strade, in cerca di ragazzine e bambine da rapire. L'assassino prendeva di mira ragazzine afroamericane. Favorito dal buio della notte, le rapiva, le portava in luoghi isolati, per stuprarle, strangolarle a morte, e scaricarle sui margini delle autostrade. È la sera del 25 aprile 1971. Carol Denise Spinks, 13 anni, fu mandata dalla sorella a fare la spesa presso un supermercato a pochi chilometri da casa. Nel tragitto del ritorno, un'auto le si affiancò. Carol sparì nel nulla. Dopo sei giorni di tremenda angoscia per la famiglia della ragazzina, purtroppo arrivò la tremenda notizia. Il corpo senza vita fu trovato in un terreno erboso, adiacente all'autostrada, I-295. Presentava segni di violenza sessuale, prima di essere strangolata a morte. Era vestita, ma l'assassino le aveva portato via le scarpe, molto probabilmente come trofeo. 8 luglio 1971. Darlenia Denise Johnson, 16 anni, era in viaggio verso quello che doveva essere il suo lavoro estivo. Non ci arrivò mai. Il suo corpo è stato trovato 11 giorni dopo, nell'esatto punto in cui era stata trovata Carol, la vittima precedente. Anche se il corpo era già in avanzato stato di decomposizione, gli investigatori riuscirono a rilevare segni di violenza carnale, e di strangolamento. Anche questa volta, alla vittima mancavano le scarpe. Un testimone disse alla polizia di aver visto la vittima, la notte del rapimento, su un'auto nera, con alla guida un uomo afroamericano. Le indagini furono intensificate. La stampa parlava già di un potenziale serial killer, ed anche la polizia ne era convinta. 27 luglio 1971. Brenda Feikrohit, 10 anni, fu mandata dalla madre nel negozio di famiglia, nel tardo pomeriggio. Passarono tre ore, e la bambina non era ancora rientrata. I genitori, preoccupati, corsero al negozio, lasciando a casa l'altra figlia, di 7 anni. Il telefono, ad un certo punto, squillò. La sorellina rispose. Era Brenda, che le disse che stava tornando con un taxi, dove alla guida vi era un uomo bianco. I genitori, nel giro di poco rientrarono, e la sorellina raccontò tutto. Ancora più allarmati, e pronti a chiamare la polizia, ricevettero un'altra telefonata. Rispose il padre. Era ancora Brenda. Questa volta aveva una strana voce. Sembrava spaventata. Disse al padre che si trovava in una casa. Il padre, nascondendo la preoccupazione, cercò di rassicurarla, e le chiese dove si trovava. Ad un certo punto si sentirono dei passi pesanti in sottofondo. La bambina salutò velocemente i genitori, e riattaccò il telefono. Scoppiò il panico in casa. La polizia arrivò tempestivamente. Pronta per le ricerche. Le autorità erano convinte, che fosse stata obbligata a chiamare dall'assassino, per guadagnare tempo. Per la piccola, purtroppo, era troppo tardi quando fu ritrovata. Erano le 5 del mattino, e giaceva in una posizione ben visibile lungo l'autostrada 50. Il mostro l'aveva stuprata, strangolata a morte, lasciandole una sciarpa legata intorno al collo. Le scarpe erano state portate via. 1 ottobre 1971. Nenomushia Yates, 12 anni, fu trovata morta, lungo un'autostrada, uccisa mediante strangolamento, dopo la violenza sessuale. Ancora una volta, mancavano le scarpe. 15 novembre 1971. Brenda Denise Woodard, 18 anni, si trovava su un autobus, diretta verso casa. Arrivò alla sua fermata verso le 23 e 30. I genitori, che la stavano aspettando, non vedendola arrivare, e consapevoli che c'era un mostro là fuori, chiamarono la polizia. Fu ritrovata sei ore dopo, morta, stuprata e strangolata. Le mancavano le scarpe. Nella tasca dei pantaloni, l'assassino aveva lasciato un biglietto, con scritto. Questo equivale alla mia insensibilità verso le persone. Specialmente verso le donne. Ammetterò tutti gli altri omicidi quando mi catturerete. Se ci riuscite. Il biglietto era fermato. Il fantasma. I media riportarono il caso, chiamandolo fantasma. Si creò il panico. La polizia fece numerosi appelli, alle ragazze, soprattutto le afroamericane, di non girare la notte da sole. L'appello era rivolto anche ai genitori, prendersi maggior cura delle loro figlie, poiché nel mirino dell'assassino, vi erano specialmente le minorenni. La popolazione era terrorizzata. Ma questa prudenza non venne rispettata da tutti, in quanto, per non creare il panico, non fu abbastanza pressante. 5 settembre 1972. Diane Denise Williams, 17 anni, aveva appena finito di preparare la cena ai suoi genitori, per poi dirigersi verso la casa del suo ragazzo. Fu l'ultima volta che la videro. È stata ritrovata morta, uccisa da molteplici pugnalate. Non c'era presenza di violenza sessuale, né tanto meno di strangolamento. Ma le scarpe erano stei trimosse e portate via. Motivo per il quale, l'omicidio fu imputato al fantasma. Diane fu l'ultima vittima imputata al serial killer. Il caso del fantasma dell'autostrada ha visto una miriade di investigatori. Era stata formata una task force, che includeva addirittura squadre specializzate in omicidi sessuali. I principali indiziati erano la Green Vega Rapists, ovvero una banda di stupratori seriali, responsabili di numerosi stupri e rapimenti a Washington DC. L'ultimo sospetto fu Robert Haskins, noto per aver ucciso due prostitute, e per aver aggredito molte donne. Nonostante tutto l'impegno e lo sforzo delle squadre investigative, gli indizi non portarono a nulla di interessante. I principali sospettati furono tutti rilasciati per mancanza di prove. A tal punto, fu messa una ricompensa di 150.000 dollari per chi avesse contribuito alla cattura del serial killer. Tuttora le indagini sono ancora aperte, ma per ora il mostro che ha stuprato, ed ucciso vittime innocenti, con tutta la vita davanti, distrutto intere famiglie, e preoccupato l'intero Stato, rimane ancora ignoto.